Qualche giorno fa abbiamo messo in evidenza lo stato di abbandono del acquedotto del Triglio, un'eccellenza archeologica e di cultura che parte da Crispiano e finisce a Taranto, il tratto più lungo nel comune di State. Io so che il sindaco a vedere quelle immagini è rimasto male soprattutto nel primo tratto pieno di erbacce, sterpaglie. Insomma sindaco cosa dobbiamo fare? Aspettare. Sicuramente ci sono città che vivono di turismo, Taranto, State e Crispiano potrebbero vivere di turismo e non solo di industria. Dico che quelle immagini sono l'emblema di quello che sta succedendo nel territorio. Noi a State abbiamo dove si immerge l'acquedotto del Triglio, io ho avuto la fortuna di avere dei collaboratori che mi hanno fatto visitare un tratto dell'acquedotto del Triglio, un patrimonio inestimabile, io direi potrebbe essere un bene dell'UNESCO addirittura per quello che è stato fatto, dell'ingegneria di tanti anni fa. Quindi l'invito qual è? Di invitare la Regione, di invitare lo Stato, di invitare l'assessore Capone affinché ci dia una mano, affinché questi beni vengono rivalutati e messi ed essere fruibili per tutta la popolazione e non solo, ma per i tanti turisti. Noi sappiamo bene che la Puglia sta prendendo, come dire, il volo per quanto le presenze turistiche, perché non far visitare l'acquedotto del Triglio dove si immerge, da dove sorge e quindi dico di qua l'invito alla Regione prima, ma l'assessore Capone che è un pezzo importante della Regione, un invito a fare tutti insieme, di collaborare col Sindaco di Crispiano pure affinché questo patrimonio venga rivalutato e sia messo a disposizione dell'intera comunità.